Quella di ieri doveva essere una normale giornata di calcio nel Salernitano ed invece la violenza ancora una volta ne è stata la protagonista. Prima della partita Nocerina-Foggia, sfida valida per il terzo turno del campionato di Serie D, Girone H, si sono registrati infatti violenti scontri tra le due tifoserie. Ad accendere la miccia, secondo una prima ricostruzione, è stata una sassaiola all'indirizzo dei mezzi che trasportavano gli ultraspugliesi, in seguito alla quale le due tifoserie sono entrate in contatto. Le forze dell'ordine, schierate in assetto antisommossa, sono riuscite nel giro di qualche minuto a disperdere i facinorosi e a fare entrare i supporter nei rispettivi settori dello stadio. Negli scontri sono rimasti feriti due tifosi del Foggia, che hanno riportato lievi escorazioni e sono stati medicati sul posto dai sanitari. Ma a differenza di quanto si pensava, gli animi di un nutrito gruppo di tifosi erano ancora accesi, anche dopo la partita. Ed infatti la guerriglia è continuata durante il viaggio di ritorno dei tifosi del Foggia, che a bordo di alcuni pulmini hanno interrotto il loro tragitto sulla strada statale 18 all'altezza di due bar. Seminando devastazione e panico, ingenti i danni provocati alle attività commerciali sulla strada. Anche in questo caso è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Salute Grazie a tutti.